Quindi il primo fattore è l'innovazione, voi vedete qui in questo quadro, se guardate dall'angolo, vediamo se riesco a farlo, ecco, da questo angolo, qui ci sono le imprese meno efficienti, quelle che sono nel mercato locale e non sono innovative, nell'angolo in basso a destra. E quell'opposto invece sono quelle che sono internazionalizzate e fanno innovazione. Vedete una specie di U. Allora abbiamo imprese che hanno in qualche modo una presenza nei mercati internazionali, questo sistema a rischio di competitività, però non innovano e quindi tendono a decadere. Gli innovatori che hanno sbagliato e quindi che sono in crisi, per arrivare poi a tutte quelle aree più in basso dove ci sono nicchie di mercato nelle quali il presidio è tutto nazionale e l'innovazione è molto bassa. Se invece andiamo poi verso l'alto, noi troviamo che ci sono delle schegge di vitalità, le abbiamo chiamate, cioè chi è capace di iniziare il suo circuito di innovazione, gradatamente va a finire lì dove ci sono i good players, cioè coloro i quali sono innovativi e sono internazionalizzati. Quindi vedete, non è che una volta che tu hai creato un sistema di imprese, hai fatto l'Etna Valle e ci sono 300 imprese, quelle imprese per tutta la vita andranno bene, perché il processo di competitività territoriale è un processo che deve essere alimentato continuamente dalla innovazione, ma deve essere anche alimentato dalla capacità di vedere i mercati. Una delle attività fondamentali per la quale oggi noi non possiamo dire di essere un paese industriale, noi siamo un paese industriale avanzato nel quale le funzioni terziarie e le funzioni industriali si mischiano. L'IKEA, che cos'è? L'IKEA è una grande superficie commerciale o è una fabbrica in cui l'operaio lo fate voi? Un grande produttore di abbigliamento vive in quanto ha un marchio, quindi la comunicazione, in quanto produce quel tipo di borsa con quel design o vive in quanto ha una sua rete commerciale e logistica? Pensiamo alla Luxottica, che oggi è forse il più grande produttore di occhiali e che nasce nel cadore veneto e che ha comprato la Raybant, per esempio, come tante altre cose. Oggi la Luxottica ha circa 10.000 negozi in tutto il mondo. Che cos'è? Cos'è più importante? Produrre dei buoni occhiali o venderli? Quindi, primo, innovazione e internazionalizzazione, secondo, la visione del mercato. E la visione del mercato comprende anche, per questo dico, il potere locale fondamentale, perché quando il potere locale non è buono, l'impresa scappa via. Ho incontrato un imprenditore italiano andato in Cina per disperazione, produttore di pneumatici per trattori, fabbrica a Tivoli, per poter asfaltare il suo piazzale pagandolo lui. Tivoli, 25.000 abitanti, mi diceva che sono due settimane e non riesco a parlare con il sindaco e sicuramente per poter asfaltare queste spese mie ci metterò sei mesi per i permessi. Dice, io sono venuto a comprare una fabbrica in Cina, in una piccola città di 7 milioni di abitanti, per tre giorni il sindaco è stato con me. Mi ha detto le tasse quali erano, cosa mi serviva, cioè la dimensione importante su cui vincono i sistemi locali e la capacità dei vari attori di cooperare, di collaborare. Pure questo mi rendo conto che è una cosa che a un che distantio bisogna collaborare. Però questo è fondamentale. Se vedete, per esempio, questo è lo schema reale di come laddove c'è un'eccellenza territoriale funzionano i rapporti, che non sono solo pubblico-privato, ma sono fra le istituzioni, sono fra le imprese e le istituzioni, fra le imprese e fra di loro e naturalmente fra le imprese e chi fa innovazione. Allora, questo sistema di relazioni, questo sistema così importante di relazioni, credo che dia l'eccellenza sul territorio. Andiamo rapidamente, perché questa mappa è la mappa che noi abbiamo fatto a livello comunale di quelli che noi abbiamo definiti all'interno di una logica di sistema locale, quelli che hanno raggiunto un livello di eccellenza. L'eccellenza poi effettivamente è data in sintesi da tre cose. L'efficienza territoriale, cioè la pubblica amministrazione, gli enti locali devono fare in modo che il territorio funzioni, che ci siano infrastrutture, che ci siano i servizi. Non devono fare lo sviluppo locale come incentivazione dell'impresa, devono realizzare infrastrutture e servizi efficienti. Una cultura collettiva, perché questo è un po' il problema del Mezzogiorno e anche del Mediterraneo. Perché laddove si è creato un circuito dinamico e in maniera molto precisa, un sistema locale che funziona, che produce reddito, che produce occupazione, beh, la cultura collettiva, cioè il capitale umano che sta dietro, condivide pienamente i principi dello sviluppo imprenditoriale. Quindi creare una cultura collettiva, per esempio voi che siete occupati di comunicazione, è un dato fondamentale nel Mezzogiorno, come in tutti i territori, dove purtroppo queste cose si sviluppano meno. Quindi, perché, rivedo, l'ente locale e l'impresa possono fare, ma se poi, come succede in tante parti d'Italia, per esempio c'è un certo affaticamento nei confronti del lavoro, non si ricreano iniziative, per esempio, delle giovani generazioni di tipo imprenditoriale, quel distretto, quel sistema locale tende a decadere. Concludo questa parte e vi parlerò pochissimo del resto, ma insomma mi sembra, vorrei parlare adesso del Mediterraneo. Insomma, in definitiva, un sistema locale del lavoro non produce bedi o servizi, produce imprenditori. Tant'è vero che, anche laddove c'è una forte specializzazione, si fa l'abbigliamento, faccio un caso, nelle Marche, fermo, dove c'è della Valle, per capirci, dove c'è la Tozzi, Beh, lì ormai ci sono alcune imprese leader in settori che non c'entrano niente con le calzature, per esempio c'è un grandissimo produttore di batterie per auto elettriche, c'è un altro grandissimo produttore di cappe aspiranti, c'è un grande produttore di macchine per bancomat, cioè quello che bisogna creare, per cui io dico la cultura collettiva, è l'idea che lo sviluppo si può fare solo tramite le imprese. Cosa c'entra tutto questo col Mediterraneo? Il Mediterraneo, nella nostra cultura, continua ad essere, e noi abbiamo, una visione estremamente tradizionale di cosa sia il Mediterraneo. Come vedete, questa è l'indagine che abbiamo presentato proprio a Palermo, nella conferenza internazionale sul Mediterraneo a maggio, voi vedete che, come viene giudicato dagli italiani il Mediterraneo? Viene giudicato attraverso la storia, la bellezza, la cultura, le comuni radici, cioè una visione statica, tradizionale, che è la visione che non fa bucare il Mediterraneo né in Italia né in Europa. Perché quando abbiamo detto che è il mare di pace, i tre continenti che guardano il Mediterraneo, che abbiamo le comune radici, non sappiamo più cos'altro dire. Voi che siete uomini di comunicazione e di relazioni, non si crea il ponte di una relazione. L'unica cosa che può far creare un ponte di questa relazione è quel 5,9%, cioè uno spazio economico. Se non ci sono relazioni economiche, è abbastanza difficile che si creino interessi generalizzati di opinione pubblica. Noi, in effetti, l'unico interesse che si crea nel Mediterraneo riguarda la sicurezza e la politica. E lì ci fermiamo, perché ci fermiamo alla questione israelo-palestinese, ci fermiamo alla questione dei regimi democratici, ci fermiamo al massimo e arriviamo all'interculturalità o alla dimensione interreligiosa. Tutti argomenti su cui non può crescere nulla. E non definiamo neanche e interpretiamo in maniera intelligente cos'è oggi il Mediterraneo. Cioè noi abbiamo una visione del Mediterraneo statica e vecchia. Io, dicevo, io ho girato, perché abbiamo fatto un rapporto di scienze sul Mediterraneo, e ho trovato una realtà molto diversa. Tanto è vero che se agli italiani si chiedono che cosa però bisogna fare col Mediterraneo, beh, incomincia ad essere più concreto. Intanto accordi sui flussi migratori, quindi abbiamo la conoscenza che ci sia una pressione demografica dal Mediterraneo. Poi esportiamo di più, aiutiamo lo sviluppo dei paesi mediterranei, arriviamo a un 16% che dice investimenti turistici, incremento delle relazioni marittime, accordi sull'energia. Quindi quando noi andiamo nel concreto e diciamo ma che bisogna fare? Questo Mediterraneo ce l'abbiamo tutti in testa, è una cosa importante, le nostre radici, però non ce ne importa quasi nulla. Quando andiamo a dire, si dice invece qual è la realtà del Mediterraneo. La realtà del Mediterraneo è una realtà in forte cambiamento. Non solo perché si stanno verificando alcune modificazioni importanti, certamente le fonti energetiche sono una ricchezza che c'è il Mediterraneo e a noi serve. L'agricoltura è ancora prevalente, ma non mancano alcune iniziative industriali, c'è uno sviluppo immobiliare delle città. Soprattutto si è affermato nel Mediterraneo un processo di polarizzazione nella parte costiera legata alla logistica. Noi credo, noi italiani, siamo ormai fuori o stiamo per diventare un paese poco competitivo per quanto riguarda i flussi logistici, che sapete il Mediterraneo è una cosa importantissima perché passano tutti i flussi dall'Asia, si è spostato il baricentro sull'Atlantico, noi abbiamo fatto Gioia Tauro, abbiamo incrementato Gioia Tauro, però le ferrovie dello Stato hanno ritenuto che i porti si dovessero fare dove sono le ferrovie e non il contrario, Gioia Tauro ormai declina. A favore non solo di Al Jazeera, porto che hanno fatto gli spagnoli collegato con ferrovia a Monaco di Baviera in 20 ore, eccetera, eccetera, ma ormai l'investimento infrastrutturale in logistica che c'è nel Mediterraneo non c'è in Europa del Sud. Abbiamo Tanger Med, che è un grandissimo snodo logistico, quindi non è solo un porto, abbiamo Porto Said, ma vi vorrei dire anche i nomi Beirut, Istanbul, ma anche Gen Gen in Algeria, Enfida in Tunisia, cioè nello scenario di questa importante funzione che avete visto è anche importante per quanto riguarda gli sviluppi di tipo produttivo, in questo scenario noi abbiamo qualcosa a cui riferirci. Quando chiediamo agli italiani come sarà il futuro del Mediterraneo, vedete, sempre più determinante nello scenario mondiale, 58%. Ecco, allora io concludo e dico, c'è una divisione ancora molto netta lì, ma ci sono dei paesi, penso ai grandi paesi mediterranei, la Turchia, l'Egitto, penso alle due grandi metropoli globali che ci sono nel Mediterraneo, Istanbul è una città che non ha solo 15 milioni di abitanti, ma è la New York del Mediterraneo, una città straordinariamente dinamica, la Turchia produce in Europa più auto che ciascuno, che in nessun altro paese. Ecco, io credo che questa sia la base, più che pensare al trasferimento di un modello, noi dobbiamo pensare a come, e la mediazione della comunicazione può essere utile in questo, a come creare degli interessi convergenti, e questi interessi non possono che essere, almeno all'avvio, di tipo economico produttivo, in cui lì c'è un mercato che si sta sviluppando, ci sono delle competenze, ci sono dei numeri che vanno tenuti in considerazione, bisogna selezionarli, non bisogna soltanto limitarsi a quella che è la risorsa base, gli accordi di tipo energetico, il gas e l'energia, ma dobbiamo reinterpretare il Mediterraneo, e quindi in questo, noi come ricercatori possiamo fornire dei materiali, ma voi come comunicatori siete i veri mediatori di questa operazione, un'operazione che può portare all'Italia molto, nella quale l'Italia non si deve fare scavalcare, perché è uno dei pochi paesi ben visti nella riva sud del Mediterraneo, ci sono tanti italiani storicamente e ancora oggi che sono lì, ma c'è poca Italia, portateci la mano.